Questo incontro romano con Zanetti come è andato e che novità ci sono da poter raccontare ai risparmiatori ex risparmiatori di banca e truri? È stato un incontro che abbiamo fatto nel corso del presidio, eravamo di fronte al Ministero, abbiamo chiesto di essere ricevuti, abbiamo dovuto aspettare un po' perché il Vice Ministro era impegnato alla Camera, poi ci ha ricevuti e devo dire che è andata, perlomeno nelle premesse, nelle cose che ci ha detto, è andata abbastanza bene. Lui ci ha detto che intanto il fondo 200 milioni che era stato individuato non sarà più un fondo che interviene con il criterio dell'assistenza, cioè della restituzione a un intervento di carattere sociale, perché questa è l'origine del tipo di intervento, che era prevista attraverso questo fondo. Ma saranno veri e propri rimborsi, quindi il criterio è già diverso. Stabilire che ci sono dei rimborsi vuol dire che qualcuno è stato, in qualche modo, gli è stato appioppato dei prodotti e non gli dovevano essere appioppati. Il criterio dei rimborsi, ci ha detto il Ministro, sarà quello di individuare chi non è stato adeguatamente informato da parte della banca sulla tipologia del prodotto che stava acquistando e se il profilo della persona che ha acquistato questo prodotto non era un profilo corretto. Di questi casi, detti così, ce ne sono abbastanza. Addirittura il Ministro si è spinto a dire, siccome la prima parte dei decreti, quando li avevano pensati, si pensava alla stessa normativa che c'era sul Bailina, dove sono salvi i risparmi fino a 100.000 euro. E allora abbiamo previsto che i rimborsi, laddove sussistessero le possibilità, sarebbero stati dati fino a un massimo di 100.000 euro. Il Ministro si è spinto a dire che siccome si tratta di rimborsi, se quello ha effettivamente alle caratteristiche per non aver visto collocare i prodotti anche per più di 100.000 euro, sarà rimborsato del tutto quanto lui ha. E quindi la cosa di per sé è una cosa positiva. Una volta approvato i decreti, a questo punto si spede entro il 31 di marzo, è il tempo ultimo, e quindi ormai ci siamo, tra 15 giorni massimo saranno approvati. Lì è previsto che in sede di confronto arbitrale, che non sarà più un confronto dove c'è un arbitro unico che decide sulla base della documentazione che viene fornita alla banca. Il Ministro Zanetti ci ha detto anche che l'arbitrato non sarà di questa natura, ma sarà un arbitrato contraddittorio. Grazie a tutti.